Ora questa è la vettura Renegade salvata, tetto salvato, montante salvato, laterale salvato, ovviamente sulle vetture nuove la lavorazione è più facile da eseguire rispetto alle vetture che hanno qualche anno perché la lamiere è più flessibile, la vernice nuova è anche più flessibile rispetto a una vernice seccata dal sole che magari ha già una decina d'anni. Altro montante, i montanti sarebbero difficili da lavorare ma con la tecnica giusta comunque si lavora, quindi questo è il risultato finale, montante salvato, laterale salvato, parafano salvato, cofano in alluminio salvato. È rimasta una piccola masticatura impercettibile, io in genere queste masticature le vado a lucidare con la 3000 ad acqua, quindi con la 3000 bagnata. In questo caso preferisco che la lucidatura la faccia i carrozziere perché? Perché sa quanto insistere, cioè parte da questo che è un livello iniziale, sa quante lucidature fare. Io ripeto, lucido con la 3000 bagnata e lucido a mano per seguire la curvatura della lamiera. In genere alla terza lucidatura con la 3000 si può arrivare dopo la vernice si scopre, cioè si seppia tutto il trasparente e si va a scoprire la base. Quindi questa è la lavorazione terminata, ripeto, cofano in alluminio, vettura salvata. Lavorazione non facilissima, comunque, ripeto, con la tecnica giusta si può eseguire. Se siete assicurazioni e volete, prima che la vettura venga riverniciata, vedere se si riesce a salvare, contattatemi. La lavorazione può avvenire nelle carrozzerie, nel caso la vettura non venga salvata in qualche parte, quella parte viene riverniciata. Però è difficile, è difficile che dopo la lavorazione venga riverniciata tutta la vettura. Ovviamente se la grandina non ha spaccato l'unotto, non ha spaccato il parabrezza. Quindi su grandinate e medie le vetture, in genere, se non sono state riverniciate, se non salta la vernice, in genere si salvano. Quindi la verniciatura, il più delle volte, non è richiesta. Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere nei commenti. Se vi interessa vedere lavorazioni particolari, contattatemi. Per i corsi, in questo periodo, solo affiancamento di mesi. Quindi dove vado a lavorare potete contattarmi per fare corsi in affiancamento, che ovviamente non hanno il costo dei corsi di 5 giorni, costano di più. Ci vediamo nei prossimi video.